Bisogna essere sempre continui, bisogna buttare pezzo dopo pezzo, bisogna essere presenti e ormai diciamo fare musica non ti serve neanche più a tanto Questo è pesante No, è vero perché devi essere presente sui social, devi fare un po' lo youtuber devi fare tantissime cose per far sì che funziona Hip Hop TV in onda su Sky, canale 720 e in free streaming su tutti i device su live stream.com slash hip hop tv slash live